ORIENTAL POISIN ORIENTAL POISIN ORIENTAL POISIN Tutti però su sto gioco No, qua faccio la nuclear Sì sì Oggi facciamo 10 nuclear O ieri ce la stavo quasi facendo Ecco ragazzi Questa è una nuova serie Benvenuti in questa nuova serie Il ROD2Nuclear Se ci riusciremo qualche giorno ROD2NUB Ah no, siamo già Eh sì Vai facciamo la ROD2Nuclear Grazie, questa è... La nostra nuova serie Dai che ti ho visto, vieni Sì raga campero eh C'erano... Oh che wallhacker è Non vedere che si... Ma vaffanculo Cioè se era là quello che mi aspettava Raga No, non è wallhack Vabbè, io sempre lo dico wallhack e bla bla What? LOL, si è fatto una collatera quello Bravo Andiamo... Perdiamo B eh Nooo, ero bloccato a terra C'era raga ROD2Nuclear La gente che è camper, ammado Deve morire male Sì, ROD2Nuclear ragazzi Noi stiamo... Zero a tre C'è... Zero kill e tre morti Può essere la nostra ROD2Nuclear Mi si è buggato Yenzi mi senti? Sì sì Ah mi si era buggato Boh non mi si... Non voleva andare più Riperucciso Oh, sparano da noi Eeeh Vediamo la Dai Raga ma quanto facciamo schifo C'è faccio schifo porca puttà Dai prendiamo qualche arma dove... Può essere figa Diciamo su come su... Oddio che meno del cazzo Bua gente speciale a terra Bua figli di disturbo alleato in arrivo Dai come fa? No, ma sono un hub ragazzi Scusatemi se sono un hub Yenzi non parla Se no dopo mi sconcentra Eeeh lo so però C'è uno E se parli dopo Difficile Ma come cazzo è possibile? Si può essere scarsa Ma... Ma vaffanculo UAP alleato in arrivo No ma perché? No ma perché? Oddio quanto ho dei domini Nessuno Guardiamo al Perfasto Il nemico ha preso... Dai quello è camperato e spawn Hanno preso... hanno preso A raga Nell'area operativa Prendiamo C C Sotto controllo Perdiamo Bravo Prendiamo Alpha Prendiamo Alpha Questa arma non è buona Oh, buono Ed è un hub Prendiamo Alpha Prendiamo Alpha ok ragazzi aspettiamolo no l'ho tolto guarda quello lì colpuri ma io mi metto a camperare osservate le forze per il prossimo round abbiamo perso A Cerberus in arrivo bersaglio a terra Charlie al sicuro UAV in arrivo approvvigionamento in arrivo raga io mi metto a camperare perchè alleato il suo si raga questa partita è un po' camperata so fa un po' di stragi dai io vi schifo ok ho l'estorme per il prossimo round quindi vediamo sulle mie prime serie che sto prendendo ragazzi tutto quel gioccio ah adesso l'ho già preso però eh da tanto che non giochiamo a corto SOS io ho ripreso un mese fa io l'ho preso tre giorni fa non lo so da quando è uscito il video prendete l'obiettivo devo aspettare no lascia dipendere anche Charlie a me ha preso oh grazie sotto controllo 5 4 3 2 1 ora usare elstorno sul mio bersaglio devo camperare un po' prendiamo prendiamo bravo right alleato nell'area operativa bravo user joined your channel vai ragazzi vai 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 siamo messi bene dai ho recuperato un po' adesso muoio volete vedere perdiamo alfa il nemico ha preso alfa guarda come ho fatto questo no sono morto 10 kill vabbè 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 abbiamo fatto un bellissimo scorpero c'è bellissimo no però più o meno buono dai ma guarda sto cecchino di merda guardalo vedete oddio mi ha preso il cecchino mi hai già l'ho tirato qui guarda guarda quanti che io vi faccio prendiamo A prendiamo A vabbè 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 questa partita l'abbiamo vinta quindi ragazzi buonissimo direi perchè abbiamo avuto la partita in arrivo arriva un approvvigionamento porca puttana mi ha schiacciato la y io sono la y per l'attacco quello figo la y ma raffaca guardate però non c'era nessuno ma va che paura che mi ha fatto che andiamo a perdiamo che cazzo ma no ne ho passato a prendere qualcosa niente vengono su c aspetta no cecchino vabbè vabbè via vabbè 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 la granata da un po' il suo da questo questo è il cecchino che spara automatico prendiamo ok no al fattore non vinto si si sono che cazzo mi ha salvato il culo scuola ok alla ragazza dai 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 ok ragazzi gg abbiamo vinto e ho fatto il mio scorre è positivo meglio così guarda jenzi 21 9 poteva fare la nuclear ma che la nuclear la nuclear è un po' lontana sai come e vabbè dai vediamo a cia adesso anche un po' rato 2.0 come rato io vabbè dai hai fatto un bellissimo scorre anche tu cioè io ho fatto il merda però tu almeno hai fatto un bellissimo scorre può fare di meglio oddio non bellissimo però sempre il positivo sempre positivo anche io dai posso non andare mai negativo eh si questo gioco ragazzi è un po' difficile diciamo si dai un po' cioè è molto figo e niente ragazzi noi ci becchiamo in un prossimo video per questo video è tutto su black ops 3 con nancy 99 spero che questo video vi sia piaciuto non salutare adesso spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi lasciate un commento ed un mi piace noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao ciao grazie a tutti